Avete torto e fine ascolto Ogni maizia di leggi e codici Con la voce sa, noteggiatore, bevegiatore C'è da fare una befa nuova e rara E' Gianni Schietti che la prepara Gli occhi forti illuminanti il viso lo strano viso Ombreggiato da quel sopranassone Che pare ancora ragione per così Vieno al contato, ebbene, che vuol dire? Vieno al contato, ebbene, che vuol dire? E' Firenze che la moglie a valestere Salve un paradisario e torris nale P.I.P. D.I.P. P.I.P. D.I.P. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.